Disanima Piano Il cartellone è molto interessante, i tre eventi serali in modo particolare che sono aperti anche al pubblico che potrà acquistare i diglietti vedono in pista praticamente Paola Turci che farà una conversa a concerto. Intervistata da Castaldi, giornalista di notevole fama, poi abbiamo quello che è diventato un amico di Disanima che è Claudio Batta, il comico che proporrà il meglio di Claudio Batta, quindi di tutte le sue produzioni degli ultimi anni. E l'evento Clou il lunedì sera, Claudia Gerini accompagnata dai Solis, musicisti peraltro straordinari, con un concerto anche recitato che è un omaggio a Califano. Per tutti gli eventi obbligatoria la prenotazione al numero 338 49 47 909, ingresso gratuito agli eventi per i soci di Disanima Piano con diritto di prelazione prenotando sino al 26 agosto.